ma c'è una donna in questa casa dove c'è un armadio pieno di soprabiti da donna sei sposato no sì cioè lo ero divorziato no sì che è morta completamente ah mi dispiace ma è successo tanto tempo fa perché tieni ancora le sue cose così sai però adesso ho deciso di di prenderli metterli insieme e dagli fuoco a tutti allora prima che prenda fuoco ti dispiace se questa la tengo ho sempre desiderato avevo il cincillà sulla pelle credo sia reciproco per il cincillà di cosa contento credo hai ragione tu stasera ti perso meglio con le mani liberi no anche se sudano